Naufragio alla Colombaia, un'imbarcazione battente bandiera tunisina è andata ad infrangersi sugli scogli della Colombaia, su posto la capitaneria di Porto che ha soccorso due veliste di 50 anni. Voleva sottrarmi il mio figlioletto, i carabinieri hanno arrestato il nigeriano che qualche giorno fa ha aggredito una connazionale davanti all'asilo Don Bosco di Trapani. Sicilia è una regione avventurosa, si piazza primo posto in Italia nella classifica tra le mete più ammite da turisti appassionati d'avventura, la Sicilia con le sue 203 emozionanti attività. Muona sarebbe ritrovati alla nostra edizione serale, apriamo subito con una notizia delle ultime ore, oggi pomeriggio infatti è naufragata dopo aver sbattuto sugli scogli un'imbarcazione battente bandiera tunisina nei pressi della Colombaia, ascoltiamo il servizio. Due navigatrici sui 50 anni, probabilmente di nazionalità spagnola, sono andate a sbattere sugli scogli a Trapani. Il loro bialbero di circa 20 metri è andato ad infrangersi sulla Colombaia per poi affondare nel giro di un paio d'ore. Le due veliste sono state portate in salvo dai soccorsi intervenuti sul posto dal cantiere navale Draipanum, una volta arrivata la richiesta alle 14.30, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, giunta sul naufragio dell'imbarcazione battente bandiera tunisina prontamente allertata dal cantiere. Sembrerebbe che il motore dell'imbarcazione sia andato in avaria all'ingresso del porto, per poi essere portato sugli scogli a causa della risacca del forte vento che si registra in queste ore nel tratto di mare davanti a Torre di Ligny, punta estrema della Sicilia e crocevia del Mediterraneo. L'impossibilità di salvataggio dal mare spingeva la Draipanum ad intervenire da terra. Una volta raggiunte, le due veliste venivano soccorse, portate in Capitaneria per le formalità di rito. Ed il questore di Trapani, Salvatore Larosa, questa mattina ha salutato la città. Da lunedì infatti sarà a Roma, dove ricoprirà un altro incarico. Ha parlato anche di calcio e di basket il questore di Trapani, Salvatore Larosa, nel giorno del commiato del saluto alla città. Quando sono arrivato, ha ricordato, il Trapani gioca a pensere B, poi le tante vicissitudini societarie, ora però il palazzetto e il provinciale, sono tornati ad essere luoghi di divertimento e di spettacolo. Larosa ha anche sottolineato che in occasione delle partite casalinghe, in materia di ordine pubblico, non si sono mai verificate situazioni particolari. Alcuni tifosi sono stati da stati, ma il tifo qui non è mai stato una piaga. Poi un augurio. La promozione del basket dopo quella del calcio è una promessa. Magari verrò a vedere la finalissima dei play-off. Da lunedì, per Salvatore Larosa, inizierà una nuova avventura a Roma, alla direzione centrale per le risorse umane. Ma il suo è soltanto un arrivederci, come lui stesso ha ribadito. Io sono stato molto bene a Trapani, come ho detto poco, anzi mi sono ben inserito nel contesto della questura. Il rapporto con la città è stato sempre corretto, leale, con tutte le istituzioni ho avuto veramente un rapporto assolutamente positivo. Quindi non posso lamentarmi, anzi sono stato molto molto bene. È una delle esperienze più belle che ho fatto in 35 anni. Quindi, diciamo, come quest'ora vado via, ma come persona non vi libererete facilmente di me. Verrò e tornerò sicuramente, perché comunque è un posto che mi è piaciuto molto. Anche perché poco fa ha fatto una promessa che verrà a Trapani per il play-off di basket. Sì, se il Trapani dovesse andare in finale, cosa che io mi auguro, e dovesse soprattutto andare in Serie A, e spero proprio di venire e di avere la possibilità di vedere qualcuna delle partite di finale. Il suo è soltanto una rivederci allora. Eh sì, spero proprio di sì, arrivederci a tutti allora. E rimaniamo sempre a Trapani con la cronaca. È stato arrestato il nigeriano che qualche giorno fa aveva aggredito una connazionale davanti all'asilo del Don Bosco di Trapani. Le voleva sottrarre appunto il figlio Letto. Sentiamo. Il nigeriano è stato arrestato, l'accusa di cui è chiamato a rispondere pesante, tentato sequestro di un minore. L'epilogo dell'aggressione che l'indagato ha perpetrato ai danni di una connazionale in stato interessante che è stata picchiata davanti all'asilo Don Bosco di Trapani dove stava accompagnando il figlio Letto di 5 anni. Il nigeriano, che ha 26 anni, le voleva sottrarre il bambino che lei però è riuscita a proteggere, l'episodio di violenza si è consumato nelle adiacenze dell'autostazione alla presenza delle altre mamme terrorizzate e delle insegnanti che hanno subito dato l'allarme con una telefonata al 112. L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma. Per accertamenti la donna, malmenata invece, è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Dopo aver ricevuto le cure del caso, anche lei è stata ascoltata dai militari dell'arma che nel frattempo avevano raccolto altre testimonianze. Una volta ricostruita l'esatta dinamica di quanto accaduto per il nigeriano è scattato l'arresto per tentato sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. È stato infatti trovato in possesso di un asce e di un coltello con una lama di 30 centimetri. Ora è in carcere. Da chiarire ancora il movente di un episodio che aveva creato allarme tra i genitori cui i figli frequentano la scuola dell'infanzia che fa parte dell'istituto comprensivo Bassi Catalano. In Sicilia nei primi quattro mesi di quest'anno sono già andati in fumo oltre mille ettari di terreno. La seconda provincia dell'isola è appunto Trapani con 129 ettari bruciati. La regione siciliana ha un periodo di due settimane per prepararsi in vista dell'imminente campagna antincendio. Il cronoprogramma è più serrato rispetto al passato, dopo che il governo Schifani ha deciso di anticipare di un mese, dal 15 giugno al 15 maggio, le tradizionali scadenze. Un cambiamento che riguarderà diversi aspetti operativi, come il dispiegamento delle squadre antincendio composte dai lavoratori stagionali del settore forestale ed il termine entro cui i proprietari dei terreni privati dovranno effettuare le scerbature delle aree. Nonostante le date ufficiali e le scadenze stabilite, la contesa contro gli incendi in Sicilia è già in corso da tempo, quasi senza soluzione di continuità. Il 2023 è stato infatti un anno drammatico, per i non pochi morti causati dai roghi e per i danni ambientali registratisi in tutta l'isola. Il 2024 non ha inizio in modo più rassicurante, con i dati del progetto europeo Copernicus, che mettono in luce la pervasiva minaccia degli incendi, ora diventata quasi perenne. Ponendo l'attenzione su ciò che è accaduto in Sicilia nei primi quattro mesi dell'anno, si scopre che ad andare a fuoco sono stati già oltre mille ettari. Un dato preoccupante, amplificato dalle scarse precipitazioni e dalla conseguente siccità, segnali di un potenziale peggioramento della situazione. La provincia di Messina è stata finita... ...la più colpita, con oltre 400 ettari bruciati, seguita da Trapani, dove il numero di ettari interessati ha superato la soia dei 100. Dei 129 bruciati, la stragrande maggioranza è stata distrutta a inizio maggio. La classifica va avanti con Palermo, dove in provincia sono stati fin qui 92 gli ettari incendiati, e poi ancora Enna, 85, Ragusa, 80, Siracusa e Catania, 68, Agrigento, 64 ed infine Caltanissetta, che è quella maggiormente risparmiata dal fuoco, con 22 ettari colpiti. In totale, poco più di mille ettari già andati in fumo. Di fronte a questa fotografia impietosa, la Regione continuerà a fare affidamento sugli operai stagionali, appartenenti alle categorie tradizionali, assegnando i 151 isti, esclusivamente alla lotta contro gli incendi e le altre categorie, agli interventi di manutenzione. Inoltre, ai lavoratori stagionali impegnati nella lotta all'emergenza incendi, sarà garantito dalla Regione siciliana un ampliamento delle giornate retribuite. Anche quest'anno l'aiuto arriverà dall'alto. Oltre ai Canadair, messi a disposizione dallo Stato, la Regione si avvarrà di 10 elicotteri, il cui servizio è già iniziato ad aprile. Voltiamo argomento. Arriva ridosso dell'estate una ricerca condotta da un noto portale di prenotazione sui percorsi più avventurosi offerti a turisti, che ha posto la Sicilia prima in classifica per la varietà di attività che la rendono meta appetibile per gli amanti dell'avventura. Una classifica delle migliori regioni in Italia per gli appassionati di avventura negli angoli più affascinanti del bel paese, realizzata dal portale di prenotazione OliDoo, conferma la Sicilia come destinazione top per gli amanti dell'avventura, offrendo un totale di 200 tra emozionanti attività. Lo studio ha esaminato tutte le regioni italiane, analizzando l'abbondanza di attività avventurose disponibili in ognuna di esse. In particolare, sono state prese in considerazione alcune attività tra le più popolari, come il kayak, il rafting, il paracadutismo, il ciclismo, i tour 4x4 e le piste ziplining. La piattaforma di prenotazione ha analizzato il numero di attività offerte per ciascuno di questi sport nelle varie regioni italiane, estraendo i dati dal database di TripAdvisor. La fase di raccolta dati è stata completata nel febbraio 2024, fornendo così informazioni aggiornate sul paesaggio del turismo avventuroso in Italia. La Sicilia, dunque, con le sue acque cristalline, offre 15 opportunità per il rafting e il tubing, mentre le montagne e i sentieri invitano a 150 emozionanti percorsi in fuoristrada e in mountain bike, come la grotta del Genovese a Levanzo nelle isole Egati. Per chi ama sfidare l'altezza, ci sono poi 21 possibilità di paracadutismo, tra cui una molto apprezzata a San Vitolo Capo, mentre i 5 percorsi di kayak, tra cui la timpa di Acireale, permettono di esplorare le coste Mozzafiato. Seguono la Sardegna con 77 attività, la Toscana con 76, la Lombardia, poi Lazio, Compania, Piemonte, Calabria, fanalino di coda per la Puglia con 35 attività proposte. La nostra edizione sarale termina qua. Vi ringrazio per averci seguito adesso alla linea Vallosport. Buona sera da tutti voi.